Ha iniziato quando aveva 65 anni e da allora non si è più fermata. Emma Morosini di Castiglione delle Stiviere, provincia di Mantova. Di anni adesso ne ha 94 ed è la pellegrina più anziana d'Italia. Oltre 34.000 chilometri percorsi in bici e a piedi in tutto il mondo, lungo le strade che portano ai santuari. Inizia i suoi pellegrinaggi nel 1992 per un voto fatto alla Madonna poco prima di entrare d'urgenza in una sala operatoria. Il primo, poco dopo l'intervento riuscito con successo, la porta all'Urd, a bordo di una bicicletta. Oltre 1300 chilometri percorsi in 11 durissimi giorni. Da quell'esperienza nasce la sua nuova missione, pregare per la pace nel mondo raggiungendo ogni angolo della terra. E in questi ultimi 26 anni è stato ovunque. Viaggia trascinando un carrellino in cui porta solo un sacco a pelo, un cambio di biancheria, una vecchia macchina fotografica, un paio di bottiglie di acqua, pane secco e latte in polvere. Tutti i santuari hanno la loro particolità, la loro attrattiva, la loro bellezza. Insomma, sono tutti qualcosa che ti conquistano che quando sei là non vorresti più venire via. Diresti, questa è casa mia, io sto qua. È stata in Russia, in Portogallo, in Francia, in Brasile, in Israele, in Messico, a Cuba, negli Stati Uniti e in Argentina. In Sud America è diventato un volto popolare. La chiamano la abuela pellegrina, la nonna pellegrina e i suoi lunghi viaggi a piedi vengono spesso seguiti dalle televisioni e da tantissima gente che le offre aiuto, semplicemente un po' di compagnia durante il cammino. E quando torna in Italia offre a tutti la sua testimonianza, come ha fatto ieri a Bologna, in occasione di una mostra promossa dalla pastorale giovanile della chiesa scaligera. Grazie a tutti.